Nuove sanzioni all'Iran sarebbero un ottimo segnale contro il regime degli Ayatollah che finanzia il terrore, destabilizza il Medio Oriente, uccidere prime cittadini, in particolare le donne iraniane. Tuttavia ancora una volta chiediamo che l'Unione Europea insierisca le guardie della rivoluzione islamica nella lista delle organizzazioni terroristiche. Sarebbe il segnale tanto atteso per dimostrare che il principale strumento di repressione del regime è una struttura criminale. Le donne e le ragazze in Iran non hanno fermato la lotta in nome di tutti coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà. L'Unione Europea ha il dovere di difenderle perché da lì comincia la difesa di tutte le donne e le ragazze che anche in Europa subiscono la mentalità repressiva dell'islam politico.